Dopo la manifestazione dell'anno scorso, dopo il presepe vivente dell'anno scorso, quest'anno presepe vivente rinascimentale a Castello di Marineo. Grande manifestazione, grande successo, io credo che anche quest'anno stiamo facendo bene, devo ringraziare tutti, devo ringraziare le associazioni, i singoli personaggi, le singole persone, ma in particolare l'associazione di amici del presepe. Grazie a tutti. 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 Presidente, grande impegno ma tante grandi soddisfazioni quest'anno al presepe, cosa vuole dirci? Quest'anno, come anche gli altri anni, grande impegno da parte di tutti, ma per fortuna hanno collaborato tutti, giovani, operai, persone comuni. Quest'anno, tra l'altro, l'impegno è ancora superiore a quello degli altri anni perché l'estensione del presepe è molto più grande e tra l'altro abbiamo coinvolto un vecchio quartiere di Marineo dove ancora delle stanze, delle abitazioni, delle stalle della fine dell'Ottocento, ancora integri per come sono rimaste e così le abbiamo lasciate, le abbiamo solo ripulite. E li stiamo utilizzando per questo presepe, le stiamo utilizzando per questo presepe che ha avuto sinora parecchi consensi e per fortuna parecchia partecipazione sia dei partecipanti e sia dei figuranti e sia del pubblico. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il Natale è la tenerezza, il valore del presente e la speranza del futuro, il desiderio che ogni via porti alla pace. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.